non avrò un quattro stelle io va bene vai firma david due singole due singole ok ester quando la senti andiamo si va a piti 84 con questa multi 5 stelle alla ghettato che potrebbe essere molto buono top 75 eliana ha indovinato piti 0 andiamo a piti 10 ragazzi amtaro ragazzi amtaro ragazzi amtaro qualsiasi cosa sia va bene io vi giuro se è di look no se è di look guarda io boh sentendomi male ma sentendomi male dov'è il 5 stelle via dov'è 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 dove è eccolo piti 4 5 50 50 vinto mi ha dato il via piti 75 let's go spavici a temoticon multi del 5 stelle ci siamo vi ricordo vi ricordo se lo perdiamo lei ha un sogno di look ha detto che gli vanno bene anche deia e anche chi era l'altro disgraziato e tighi però se vediamo di look è un grandissimo gg 75 e questo è la 76 scusate 77 78 79 80 ma non si perdono i 50 e 50 i 50 e 50 ragazzi semplicemente non si perdono piti 75 siamo 5 stelle ok questa è la 76 77 lexi grazie per il follow 77 78 però ad alice piace piti 14 ma piti 24 intanto albi si si lancia salgritter vediamo su ma anche se non c'è lì però li lascio lì va bene 24 lag lag oh no no raga ha laggato e c'è charlotte il che vuol dire che non probabilmente non c'è lei dopo se non c'era il lag era furina ma ha laggato e c'è charlotte però lui ha il garantito perché è un maledetto quindi quindi ci siamo siamo cari i andiamo 5 stelle 75 76 77 78 78 c1 di charlotte 79 keqing la voleva la voleva la voleva ha detto che ignario keqing sono quelli che voglio 75 subito 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 alla prima Oh Dio, meno male Oh, è impazzito Stai sul banner giusto Vai, continua a fare questo gioco No, no, no No, questo è la 75 Si alzano, eh No, no, basta, basta Sono nel banner giusto Stai nel banner giusto Meno male Oh mio Dio Aspetta, vediamo se abbiamo trovato Baesu o Furina Questa sarebbe stata Furina Ma dopo Baesu Furina, attenzione Ragazzi, sono senza parole Oh, tipo Oh Eh, si, avevano 76 con questa Quindi erano proprio gli alpiti Leis, grazie per il follow su Twitch Allora, vediamo se esce la 75 Perché sono avvinto il sì della scommessa, eh Se entra la 75 Ok, 60 Poi andiamo avanti L'ultima è 76 L'ultima è 75 Vabbè, comunque sì No, è la prima questi Tenel che prende È la prima Eccola 75 Sì, sì, sì Vai Io credo in te Lui è il gatto e Dio la volpe Siamo in società Noi Ti fai vita Guarda, eh Guarda il sabbione che arriva, eh Questo è 76 No, come? Io ho appena fatto piantare una 77 Io ho appena fatto piantare una monetina d'oro Crescerà un albero ora, eh 78 È un albero con le foglie rosse, però 79 No 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 Niente spadoni No, mentality 80 Mentality 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 81 Ma dov'è? Esatto Gli mancava Mi tremò le mani, però Dai Furi Furi Ok, intanto non si va oltre la 84 È già positivo Perché si sa mai Ok, 76 77 78 Sì Pedi 78 Con il 50 e 50 In chat Te cosa pensi intanto? Dilo te perché è il tuo account in primis Ah ok, nemmeno del dubbio Va bene, 66 In lineare Dai, lei Eccoci Brava Grazie Oh Oddio 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 prima No Ma manca il tempo di prepararsi Però è la C2 Che fa la C2? Cosa fa la C2 di Tigrari? Cerchiamo su internet È buona? Tigrari ottiene il 20% di bonus da danni dendro Quando? È qua che ci sta il quando Ci sono nemici all'interno dell'area di azione del campo di Vishnara Kanda Che è la sua skill Creando dalla sua abilità elementale Si applica fino a 6 secondi dopo la fine del campo E se il campo non contiene più nemici Quindi è un buff ai danni dendro Quando applica il campo Adesso si scopre che in realtà è la C1 Quella buffa il rate Quella non te lo vado nemmeno a leggere lo so buffa il rate Vediamo Ragazzi Ragazzi Io con questa figliola non ce la faccio Io con lei non ce la faccio Tutte le volte Tutte le volte Io con lei non ce la faccio Tutte le volte Tutte le volte Così Tutte Tutte Doppia arma Al cielo Tutti Sto facendo Prendo l'energia Passiamo della Claudia Adesso le abbassiamo Perché purtroppo non facciamo palestra E quindi non abbiamo muscoli Quindi le riabbrassiamo Vai Ok Intanto c'è Se piavercela ce l'abbiamo Bene Non è la prima Ok 63 64 Basta 65 65 66 Vai No Raga ma sarà Ma ragazzi Non ha vinto nessuno Bene Io Vado Vai Cattivissima Ci siamo Ci siamo Può essere qualsiasi Dai 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 Ti prego 77 68 69 70 Stavo dicendo 80 71 72 10 in meno 73 Che schifo Però Marietto Marietto 3 2 1 Let's go Ok 5 stelle c'è Vediamo 75 76 6 Cazzo è paura Oh mamma mia è paura sto mostro Ok 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 77 78 78 Per te 79 79 Sì è la mia Ok la sua 80 Sì L'ha vinto Qualcuno che vince qualcosa Lazio ci si crede Guarda 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 Sì 5 stelle Oddio Allora Molti delle armi Molti fortunato Ha funzionato 42 43 43 44 44 Sì 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 Stiamo riavvicinando eh Fra poco 5 stelle 60 Di nuovo Erli Garantito Garantito a 51 Sì Abbiamo il garantito a 51 Vamonos Let's go Lag Ti prego Dimmi che il lag ci salva Ok Ok Maria Grazie per il fallo anche a te su TikTok Sei su Twitch Ok Allora 75 76 77 78 79 Sì 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 Abbiamo vinto Con i 50 fits Sì Per chi non l'avesse capito Vamos Eccoci Eccoci Sì 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 No Raga No Ho rotto tutto Ho rotto il trick della maledizione C1 Sì Pedi 75 Così Manca il tempo di realizzare Siamo a 2 E siamo tutti d'accordo che andiamo a 12 E via Esci adesso Non ti permettere No 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 Non è vero Non è vero Non è vero No ragazzi non è vero Non è vero Non è vero Cos'ho detto io Cos'ho detto che facevo io dopo questa multi E la devi condurre te Dora in poi Io me ne vado No ragazzi non sono pace Fabio ma pure tu In che condizione mi lasci Io me ne vado Anzi no 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 Non è che non è chitarra Ragazzi sono moriva un'altra volta Sta cristiana Siamo a pt4 Eh 4 5 6 7 8 9 9 10 Pt11 C'ha messo un pochettino uscire Ah lo so Ma porca sbaglia Fabio Perfetto A 74 Sì Ragazzi ci siamo quasi 75 C'è un malone Non lo so mi sento Ecco Eccoci Early No mi mancava Niente Va bene Va bene Stiamo manifestando ragazzi Ci stiamo tenendo tutti per mani È un cerchio strano Ok chiamate Furina Ah da 5 stelle c'è C'è Chiamate Furina Chiamate Furina Bravissima Quella che si chiama Furina Su TikTok Bravi voi Spammate fuori blu Su TikTok Bravissimi Se lasciate il follow su TikTok Vi saluta Paimon Fa ridere però è così Buono Ok Doppio 4 stelle Doppio 4 stelle Doppio 4 stelle Doppio 4 stelle Sì Si burla Si ride Si scherza Eccola Ok Quando vuoi Eccola Doppia arma Sì davvero Sogliamo l'hegemonia Claudia Doppia arma Perché non è possibile E vogliamo l'arma di Furina Prima quello E poi rompiamo il piti E esce una oma Eh sì A caso Oh un'aquila favogna O comunque una spada Oh Zitti zitti Vediamo Oddio paura Oddio paura Spadone di tempo Ciao Riccardo Buone terme Ovunque tu sia Sarà Voglio Maria questo momento No 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 Sto stupone No Sto stupone Andiamo a 60 Oh Perli Ci si crede Oddio 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 Adesso Allora Stanno sento i denti Del coccodrillo Allora Si chiudono Si chiudono Io le mani per aria Cioè mi senti tipo Una scimmietta Io mi sono appoggiata ad un mobile Io sono appoggiata ad un mobile Con un braccio Non so nemmeno me sto a comoda O si No ragazzi no No ragazzi no Grazie no Vai Nike Vai Cioè Fabio ha scritto home Ci speravo Guarda 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 Fabio Fabio scrive home Non è possibile Vai in bagno Che ha detto Ok No 50 Andiamo a 50 Guarda Io vado in bagno Poteva essere canon Onestamente Oddio Oddio Prima Oddio Oddio Allora Questo è 41 41 Dai Fede Dai 42 43 44 I gatti No 45 No Fede Aspettila Pidio No 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 47 Sì Oh Ragazzi Qualcosa è bello in questo universo Qualcosa è bello Mamma Non avevo spingito il 50 Risparmiato Allora Sì Andiamo a 150 155 Eccoci Eccoci Bella Sì Che ne sono una lei Quella che l'hanno regalato Bene Allora c'è in C1 Oddio La Federica Io si giuro Si giuro Dai ti prego Almeno se Almeno se C'è l'ansia Almeno tu Rimani fuori Sì E nel frattempo Ringrazio tantissimo Niente Guardiamo il 5 stelle Niente Non dico niente Ringrazio dopo Non ringraziamo Il ringraziamento Era Fra poco È giovedì 23 Il ringraziamento Saremo dalla beta Per Intense Giving Che facciamo Comunque No è quello dopo in realtà Quello dopo Lei non era No non è vero È quello il Thanksgiving Ok Vediamo Che cosa è che Il Thanksgiving Day Il ringraziamento Il ringraziamento Sto capendo cosa Io ho preacca Scusate Vabbè io È sette ore e mezzo Sono in live Allora Pietà Pietà Chi sei Furina Però Sì Hai sognato abbastanza Hai sognato sufficientemente Vediamo Vediamo Vai 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 Allora 75 76 77 Charlotte 78 79 79 Ok 80 Ecco l'80 No 81 21 Io non ho parole Non ho parole No ragazzi No No Mi piace Anzi Lo mi fanno sempre Ecco qui Dove più 5 stelle Se può carichi Io ci sono Io ho le maglie al cielo Te devi alzare anche te Io ci credo Io ci credo Allagato Doppio Io ci credo Doppio Doppio È un uomo per forza Il chiudere non c'è Qui Vediamo dove 75 Sì 76 Sì 77 Sì 78 Sì Ora esca Per favore Dov'è Guarda Guarda Signore 81 Allagato È qui È qui Allagato È il caso Yes Yeah Let's go Piti 76 In questo momento Ci siamo Ok Questa è la 76 77 Che paura Mamma mia 78 79 80 81 No Andiamo avanti Sì 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 Early Piti Sì L'abbiamo presa Lo stesso Sì Ce l'abbiamo fatta Lo scuro Maui È Confermato Un pochino Prima Mammanine Magiche Hanno Funzionato Hanno Funzionato Sì Siamo a piti 15 con questa 16 Con Charlotte 17 Il Winsit Mamma mia Che molti ragazzi 18 19 20 Piìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì Grazie.